Felice è un gatto adulto, estremamente coccolone, segue un'alimentazione renal per qualche problemuccio renale, ma appunto con la sua alimentazione sta benissimo, anzi come si può vedere è assolutamente in salute. È pieno di voglia di essere coccolato, accarezzato, spazzolato, è sempre alla ricerca di attenzioni e di contatto umano, infatti non disdegna mai coccole e carezze. È molto socievole con le persone, un po' meno con i suoi simili, ma è comunque da provare, si può assolutamente provare a vedere di affiancarlo comunque con altri amici pelosi, quindi è uno dei nostri ospiti che aspetta insieme agli altri di avere una famiglia.